A Roma è in funzione da 5 anni una linea metropolitana con tracciato urbano di 11 km in massima parte sotterraneo. Dal piazzale della stazione Termini dove convergono i mezzi autotrambiari i passeggeri accedono attraverso ampi saloni e scalinate direttamente ai treni della metropolitana. 30.000 persone il giorno si servono di questo rapido mezzo di comunicazione che compie il percorso in un terzo del tempo occorrente con i normali mezzi di superficie. La principale funzione della metropolitana di Roma è oggi quella di decongestionare il traffico nelle zone centrali della città lasciando più libera la ordinaria sede stradale. Il materiale rotabile di prima dotazione è costituito da 40 elettromotrici tutte di tipo modernissimo. Rapide compiono il percorso ad una velocità media di 40 km l'ora e comode hanno una capacità di 250 posti ciascuna. La contrazione steve Hitmanaga La contrazione è costituito sembili La contrazione è costituito sembili La contrazione è parantale La contrazione è costituito vivo La contrazione è costituito possibile Grazie a tutti 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 Grazie a tutti